Insegnare è molto importante perché non insegnano solo quelli che vengono definiti insegnanti che si dividono in scuola materna, scuola elementare, scuole superiori, poi l'insegnante chiamato maestro, poi professore. Insegnare vuol dire sapere qualcosa e condividerlo in modo onesto, in modo affettuoso, compassionevole, generoso con gli altri. Ma sgridare perché è stato associato a insegnare. Perché chi insegna, genitore, maestro o professore, deve alzare la voce? Perché? Poi si parla di periodi storici passati in cui c'erano le punizioni corporali, in cui gli insegnanti picchiavano, avevano la bacchetta, picchiavano. Adesso gli unici rimasti a picchiare sono alcuni genitori che inventano una teoria. Lo faccio per il tuo bene. Cioè io ti faccio del male per il tuo bene. Dove la forza fisica dell'adulto si scatena, si scatena, l'aggressore e l'adulto. Quindi insegnare non deve mai essere collegato a sgridare. Chi non sa insegnare è meglio che non insegna. Allora la domanda è, e chi non sa essere un genitore? Invece qui sul fatto che del genitore uno fa un figlio, poi ne fa un altro, poi ne fa un altro, poi ci sono stati negli ultimi anni, perché fanno le statistiche, quanti figli sono stati uccisi dai genitori? Troppi. Non vi sto a dire il numero in vent'anni, ma centinaia, quindi troppi. Uccisi in tempo di pace in una società che si definisce democratica. Quanti sono stati sgridati? Quanti sono stati picchiati? Troppi. Quindi insegnare non deve mai essere sgridare o violentare, perché molti pensano che violentare è solo sesso, è stata violentata quella donna, il ragazzo è stato violentato, perché sono stati violentati anche dei ragazzi. Ma violentare vuol dire usare violenza su un altro corpo. Allora mi auguro, se tu sei genitore, di capire che insegnare è un'arte molto elevata, insegnare. Se tu non sei genitore, ma hai in programma di essere genitore, impara a insegnare. Quindi prima impara ad imparare, poi impara ad insegnare. perché tutti i bambini che ingiustamente sono stati sgridati, sono stati picchiati, rimpoverati, accusati, cioè tutti i piccoli umani a cui è stata alzata la voce, a cui è stata scaricata addosso rabbia, ansia, frustrazione, depressione, poi da adulti fanno esattamente la stessa cosa. È una pericolosa contaminazione culturale, quasi contagiosa. Il bambino insultato insulta, il bambino aggredito bambino bambino, cioè i piccoli aggrediti crescono e aggrediscono. Quindi fatti un esame di coscienza. Se sei in una posizione in cui puoi insegnare, prendi l'insegnamento come un'arte, come una missione. Ricordati, sei stato bambino, sei stato bambina, sei stato piccolo in un mondo di adulti fisicamente adulti. Quindi sei stato piccolo in un mondo di persone fisicamente più grandi di te, con più muscoli di te, con più potere di te. I traumi che i genitori, gli insegnanti causano alle nuove generazioni, prendendoli dall'infanzia in avanti, sono innumerevoli e quindi innumerevoli gli stress post-traumatici. Allora, giriamo pagina. Vuoi procreare, avere dei figli? Impara ad imparare, studia, leggi, informati. Se sei genitore, non c'è nessuna giustificazione seria, accettabile, nessun diritto per cui tu urli, strelli, picchi un figlio, un figlio, una figlia. Perché non fanno quello che dici tu? No, non funziona così, funziona l'opposto. Stai allevando un violento, stai allevando un rabbioso, stai allevando una forma di bullismo, un violentatore futuro. Non c'è io lo faccio per il tuo bene, il bene è un'altra cosa. Quindi impara ad insegnare, prima impara ad imparare, poi impara ad insegnare con amore e separa definitivamente insegnare e sgridare. Non bisognerebbe sgridare nessuno, nessuno, creare l'ambiente, il campo energetico, l'occasione per poter comunicare. Altrimenti guardiamo il mondo, ci sono degli stati, delle nazioni che si definiscono oggettivamente cristiane con chiese, e poi si fanno la guerra tra di loro. Chiaro, c'è il primo che attacca, l'altro si difende, però cristiani amano il prossimo tuo, che si ammazzano, si torturano, si sparano, si buttano bombe, fanno cose che col cristianesimo, operano con Gesù Cristo, non c'entrano niente. Quindi sgridare mai più, picchiare mai più, insegnare sempre meglio.